Avrebbero intrattenuto fin dagli anni 80 rapporti con la mafia, in particolare quella palermitana di Brancaccio e la mafia trapanese di Castelvetrano. Per questo il noto marchio Niceta si sarebbe sviluppato con grande successo e velocemente nella città di Palermo e in quella di Trapani. Scattano i sigilli ai negozi della catena Niceta e a quelli Blue Spirit, negozi frequentati dalla Palermo Bene. Un patrimonio del valore di circa 50 milioni di euro, quello che è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nei confronti di Mario Vittorio Massimo Niceta, di 71 anni, e dei figli Pietro, 43, Olimpia, 42, Massimo, di 40 anni. Il gruppo comprende le società che gestiscono una serie di negozi di abbigliamento e preziosi, come detto a Palermo, in via Roma, Corso Camillo fino a Chiara Aprile, via Le Strasburgo, via Rogero VII, l'ultimo col marchio Olimpia, e a Trapani col marchio Blue Spirit all'interno del centro commerciale Beli Città. Il lavoro nei negozi prosegue regolarmente, ma in amministrazione giudiziaria. Le fiamme gialle di Palermo hanno operato insieme ai colleghi dello Scico di Roma e al Ross dei Carabinieri. La ricostruzione patrimoniale ha permesso di risalire alle infiltrazioni di Costa Nostra e dei suoi leader storici, fra cui Matteo Messina Denaro, negli affari della società appartenente al gruppo imprenditoriale, leader da molti anni in Sicilia nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento e preziosi. Il gruppo risulterebbe, sin degli anni Ottanta, in rapporti di contiguità con i fratelli Giuseppe e Filippo Guttadauro, quest'ultimo cognato di Matteo Messina Denaro, per averne sposato la sorella Rosalia, con i quali avrebbe condiviso interessi economici e l'espansione delle attività nel padermitano e nel trapanese. I rapporti con la mafia del mandamento padermitano di Brancaccio si intrecciano con le vicende che hanno caratterizzato gli assetti di alcune imprese edili, costituite in quel periodo, alcune create dal capo stipite del gruppo e poi passate a diversi soggetti, ritenuti vicini a esponenti della criminalità organizzata padermitano. Giuseppe Guttadauro, 65 anni, è stato arrestato nel 2002 per associazione mafiosa e condannato nel 2006 a 13 anni e 4 mesi. Filippo Guttadauro, 62 anni, arrestato nel 2006 per associazione mafiosa, due anni dopo è stato condannato a 14 anni. Nel procedimento era emerso il ruolo di raccordo svolto da quest'ultimo nella comunicazione tra i latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro. E' proprio un pizzino di Matteo Messina Denaro in guai alla famiglia Niceta. Legami sarebbero stati riscontrati con Giuseppe Grigoli, 63 anni, originario di Castelvetrano, che avrebbe avuto anche un ruolo determinante nell'apertura di due esercizi nel centro commerciale Belli Città, centro di interessi imprenditoriali riconducibile al sudalizio mafioso capeggiato da Messina Denaro. Tra i beni sequestrati, oltre alle 11 società e negozi relativi complessi aziendali, 12 fabbricati, 23 terreni, 16 automezzi, 5 cote societarie e disponibilità finanziarie varie.